C'è l'ultimissima parte, arriva al checkpoint, prendilo, non fare scherzi Ok ragazzi, mamma mia, uno mi aveva toccato all'ultimo Ciao a tutti ragazzi, qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online Con noi gare con le rampe, abbiamo la nostra Zen Torno Allora, vediamo un po', siamo ovviamente in tantissimi Ma che cazzo c'è lì ragazzi, una super rampa proprio assurda Andiamo, andiamo, mamma mia, le spinte, le spinte, tre giri per noi, va in retromarcia In retromarcia, vediamo di arrivare al checkpoint in retromarcia Ok ragazzi, ce l'abbiamo, mamma mia, inizi assurdi Devo anche andare in modi alternativi per prendere checkpoint Allora, quella rampa lì all'inizio sembrava veramente incredibile Non so, non so come dovremmo farla, non so cosa sia ragazzi Allora, è una specie di spirale assurda poi Via dalle palle, mamma mia, c'era gente dietro Andiamo ragazzi, che cazzo è quello si è fermato? No, incredibile Comunque, una super ragazzi spirale, veramente impressionante Vai, ci riproviamo, spero che adesso nessuno si blocchi qui davanti Andiamo, vai, la potenza, mamma mia ragazzi Dove cazzo stiamo andando? Uh, uh, ok Ho corretto la zentorno proprio all'ultimo Mamma mia, no, c'era uno che tornava indietro Ragazzi, non so se, non so se ho visto bene Ma quello lì sembrava che, insomma, stesse tornando indietro No, spero di no, cazzo, spero di no Checkpoint preso No ragazzi, dobbiamo tornare indietro No, è impossibile, non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Allora, stiamo andando giù, vediamo un po' Mamma mia, il super, uh, super front flip Vai, ci siamo Ragazzi, purtroppo, purtroppo sì Dobbiamo tornare E vabbè, le gare impossibili Cazzo, abbiamo tre giri Come cazzo facciamo a fare questa cosa qui? Tre giri Tre giri assurdi Allora, vai Ah, però forse Forse a metà c'è un checkpoint Vai, eccolo qui ragazzi Prendilo Vai, checkpoint preso Guardi i bastardi La mia zentorno le ha fatti volare in aria Allora, siamo in quarta posizione Alla fine è piuttosto fattibile Perché c'era quel checkpoint, diciamo, a metà Vai, secondo giro per noi Andiamo subito Puntiamo alle primissime posizioni Anche se sono impossibili Avanti, ci risiamo Checkpoint preso E puntiamo subito ragazzi di nuovo A fare tutto Vai, vai, vai Attenzione, attenzione, attenzione Attenzione Mamma mia Che cazzo è? Che cosa mi ha colpito? No, vabbè, incredibile Eravamo in prima ragazzi Eravamo nella prima fottutissima posizione Siamo di nuovo nella salita Avanti Vai, vai, vai Andiamo Questa volta nessuno mi ha colpito Vai, vai Non colpiamo nessuno Non colpiamo nessuno Attenzione, attenzione, attenzione Dai, c'è l'ultima parte Bastardi C'è l'ultimissima parte Arriva al checkpoint Prendilo Non fare scherzi Ok ragazzi Mamma mia Uno mi aveva toccato all'ultimo Vai, ricompriamo subito Ragazzi Uno mi aveva toccato all'ultimo Veramente stavo morendo Ho detto Non ce la facciamo più Invece no Alla fine Ci sono arrivato Attenzione Via dalle palle Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Alla perfezione Alla perfezione Zentorno Dai, siamo vicinissimi al checkpoint Avanti Manca poco I bastardi mi hanno colpito Dai, dai, dai Dai, che è fattibile Dai, che è fattibile C'è il checkpoint lì Mamma mia Quello l'abbiamo Proprio schivato Ok ragazzi Tutto alla perfezione No, che cazzo è di nuovo In quarta posizione Ah, c'è l'ultimo giro Io voglio recuperare Per pochi secondi Eravamo addirittura prima Passati in prima posizione Cazzo, non è possibile Venite qui Primi giocatori Dove siete? E ce ne siamo Per l'ultima volta Comunque devo dire Che è una rampa spettacolare Ragazzi Gigantesca proprio Veramente troppo, troppo bella Attenzione C'è gente che arriva Alto esploso No, che cazzo è quello esploso Ho fatto esplodere uno ragazzi Con la potenza L'abbiamo distrutto Non credo che sia esploso Con la rampa Perché era in una posizione Abbastanza particolare Dai Muoviamoci Attenzione Vai, zentorno Potenza, zentorno Vai, qui ci siamo Non si capisce un cazzo Vai, ci siamo ragazzi Vai, 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 vai Vai, vai La perfezione Non colpire nessuno Non colpire nessuno Mamma mia C'erano due giocatori lì Attenzione Attenzione ragazzi Arriva il checkpoint Ok, il checkpoint Ovviamente ce l'abbiamo Siamo in seconda posizione Ricompariamo subito Perché tanto ormai Qui siamo totalmente fuori Dai, zentorno Ce la possiamo fare Recuperare un po' Devo sperare che il primo Insomma sbagli qualcosa Ok, siamo in prima adesso Mamma mia Vai, sento E mi hanno colpito No, vabbè, impossibile Ovviamente ormai Il primo giocatore Se ne sarà andato Sì, sicuro ragazzi Ma che cazzo Come saltava quello Faceva dei salti Incredibili Va Uh, attenzione Abbiamo schivato quello No, un passo Un passo ragazzi Dal checkpoint Non ce l'abbiamo fatta Vabbè, comunque sia sicuramente Infatti il primo ha concluso Vabbè, era ovvio E io li devo prendere tutti Altrimenti Altrimenti ragazzi Non ci divertiamo Tra l'altro Non posso neanche Truccare il tutto Perché non c'è No, è difficilissimo Arrivare al checkpoint Truccando tutto ragazzi Quindi niente Mi devo fare la rampa Devo sperare di Non incontrare nessuno Vai che forse ci siamo Prendi il checkpoint Ok, un bastardo Mi aveva spiorato E andiamo a concludere Questa fottutissima Cara Ultimo checkpoint Andiamo ragazzi Mamma mia Alla fine ho concluso in quarta Se non sbaglio Avevo visto all'ultimo La quarta posizione Comunque veramente assurdo Cioè l'ultima parte Non si poteva fare Veramente Ispiegabile Alla fine Sì abbiamo concluso In quarta posizione Boh Ho fatto un sorpasso Proprio all'ultimo Non lo so Non ho un'idea Ragazzi che dire Spero che il video Vi sia piaciuto Quei d'Extra Lasciate un mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao